Sapere che vi giocate tutti in una partita, per di più in trasferta, psicologicamente, che tipo di effetto fa e può rappresentare un vantaggio giocarsela fuori, paradossalmente, a me piacciono i paradossi, avere la pressione tutta sugli avversari che devono giocarsi in caso una partita da dentro o fuori. Sicuramente è un campo che già conosciamo perché ci abbiamo fatto la Coppa Italia, quindi è un campo che abbiamo già provato e poi siamo anche sereni e consapevoli dal punto di vista ambientale, anche se sappiamo che loro faranno il pienone e che avremo il nostro seguito perché già in Coppa Italia, oltre che in tutte le trasferte, ma in Coppa Italia a Iesi c'è stato veramente un grande seguito. Sappiamo che già sono partiti, già partita l'organizzazione dei pullman, quindi diciamo l'impatto ambientale non ci spaventa, siamo carichi, siamo concentrati su quello che vogliamo fare, già da oggi abbiamo subito, anzi è stato un bene tornare in palestra subito perché questo lunedì di stacco dopo la sconfitta è stato un po' pesante, adesso ciò che conta è essere tutti i giorni sul pezzo e arrivare pronti.